ben tornati benvenuti qui sul mio il nostro canale youtube grazie ai nuovi iscritti anche per loro mi presento io sono la dottoressa sarat agostini biologa prano terapeuta e insegnante di risveglio della coscienza e di cristianesimo esoterico o eccoci qui di nuovo con il nostro vangelo del giorno in chiave esoterica perché ancora non lo sapesse io commento durante la settimana ove mi è possibile quando mi è possibile il passo del vangelo del giorno in esoterica oggi vi commento il passo del vangelo della domenica che è una delle richieste che mi sono state più fatte nelle ultime settimane ovvero ok il commento in chiave esoterica del vangelo del giorno durante la settimana ma siccome ed è vero il settimo giorno e voi tutti oramai sapete il significato del settimo giorno il settimo giorno della settimana è il giorno più importante perché indica energeticamente la fine e un nuovo inizio insomma sarebbe stato importante commentare anche e soprattutto il vangelo della domenica che infatti è sempre pregno 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 di significati spirituali esoterici e in genere come gli ho già anticipato in altri video è un passo del vangelo davvero molto molto significativo in genere forte cioè in genere contiene i messaggi molto forti oggi noi andiamo a riprendere in questa domenica marco esattamente siamo al capo sei di marco versetti sette tredici in questi versetti sette tredici noi ci troviamo proprio e parleremo proprio della missione degli apostoli in realtà se vi andate a rivedere i video recenti vedrete che abbiamo già parlato in questa settimana della missione degli apostoli anzi potremmo proprio dire che questa settimana è stata la settimana in cui il vangelo ci ha ricordato più volte cosa significa essere discepoli e il discepolo prende ispirazione proprio dai dodici apostoli come essere discepoli perché esserlo e quali sono gli elementi cardine di un discepolo da cui ripeto il discepolo che può essere ciascuno di noi se vuole essere discepolo è di fatto si ispira di fatto ai dodici apostoli quindi ricordatevi sempre questo parallelismo con i dodici apostoli quindi questa settimana abbiamo già parlato degli apostoli abbiamo già parlato del discepolato dei discepoli di cui ho parlato spesso anche parlandovi della gerarchia di shamballa e quindi del perché siamo qui di qual è di qual è il nostro scopo in questa esistenza del perché ci incarniamo questa rubrica vangelo e lavoro su di sé nasce da un mesetto quindi non ci sono ancora tantissimi video ecco vi vi suggerisco per i nuovi soprattutto di andarvi a rivedere qua e là ve li scegliete in base al titolo quelli che vi ispirano di più perché davvero stiamo studiando insieme il vangelo anzi con l'occasione io vi suggerirei di prendere questa rubrica che in genere non dura molto perché comunque si limita al passo del vangelo del giorno proprio a prendervelo come un momento per voi quindi dove sorseggiare un tè una tisana un succo fresco data la bella stagione un caffè e prendervi quel quarto d'ora venti minuti per voi dove entrate all'interno della meditazione profonda del vangelo profonda vuol dire esoterica quindi quando voi riuscite a meditare profondamente il vangelo vuol dire che ne state facendo una chiave di lettura esoterica e questo è molto importante che lo comprendiate bene andiamo subito al passo di oggi andiamo a leggere a commentare vi ripeto marco 6 7 13 versetti 7 13 a ci troviamo in un contesto vi dicevo stiamo per commentare la missione degli apostoli ma veniamo dai versetti precedenti del capo 6 di matteo ovvero i versetti 1 6 dove si parla di gesù a nazareth quindi proprio il focus si sposta da gesù immaginate come se ci fosse una fotocamera una telecamera il focus si sposta dal maestro gesù cristo agli apostoli d'altronde i protagonisti del vangelo soprattutto in marco che è estremamente sintetico sono gli apostoli gesù e dio e poi la madre eccetera andiamo a leggere e chiamò a 6 12 vi ricordate ve l'ho commentato proprio l'altro giorno mi sembra nel vangelo di giovedì o di mercoledì vi ho detto il significato del numero 12 e chiamò a 6 12 e cominciò a mandarli a due a due a due e dava loro potestà sopra gli spiriti immondi e ordinò loro di non prender nulla per il viaggio eccetto il solo bastone non bisaccia non pane non denaro nella cintura ma di calzarsi di sandali e di non portare due tuniche e diceva loro in qualunque casa entriate trattenetevi in essa fino a tanto che non partiate di là e dovunque non vorranno ricevervi né ascoltarvi ritirandovi di là scuotete la polvere dei vostri piedi in testimonianza per essi guardate si toccano tanti tanti punti importanti qui per esempio si parla di karma ma ora ve lo spiego ed essi andarono a predicare che facessero penitenza e cacciavano molti demoni e ungevano con olio molti malati e li risanavano direi io parola del signore quali sono i due punti chiave di questo passo del vangelo beh mi sembra molto chiaro molto eloquente ma siamo qui proprio per spiegarlo primo scacciare i demoni gli spiriti immondi sentite quanto è bella questa espressione spiriti immondi che in un certo senso è anche molto più potente dell'espressione demoni perché demoni è generico se noi andiamo nel dettaglio esoterico del significato io questo lo spiego poi anche meglio nei corsi anzi questo diciamo che è un argomento che esce spesso nei corsi e fa parte di quelle domande che spesso molti di voi nei corsi mi fanno cosa sono gli spiriti immondi i demoni le forze oscure e quant'altro bene spiriti immondi che è il termine utilizzato nei vangeli è molto aderente alla realtà perché per spiriti immondi si intende proprio degli spiriti che come vi spiegai già tutto proviene dalla luce non esiste di suo l'oscurità è la luce che indietreggia per far spazio all'oscurità ricordatevelo sempre quindi comunque sono spiriti ma immondi perché non sono più di questo mondo ovvero del mondo animico del mondo spirituale del mondo interiore quando in delle discussioni tra umani e ritornando un po sulla sulla terra diciamo così quando nelle discussioni tra umani spesso si dice sei un immondo spesso si dice anche sei un inetto che se vogliamo è un grado inferiore all'essere immondo essere immondo oppure in quel momento fare l'immondo significa stare oltre al di là del mondo ma in un'accezione all'ottava bassa quindi significa non appartenere più a quel mondo e voi mi potreste dire a che mondo di che mondo si parla qui non si parla tanto del mondo inteso come la terra la spera presente all'interno del cosmo qui ricordatevi sempre che siamo in ambito spirituale profondo quindi per mondo si intende il mondo interiore che però fa sempre da specchio al mondo esteriore tutto ciò che noi vediamo fuori è sempre solo lo specchio di ciò che noi siamo dentro mi raccomando di ricordarvi questo quindi in tutte le spiegazioni che io vi do ricordatevi la legge dello specchio la legge di risonanza la legge di compensazione che comunque qui sul canale youtube vi ho spiegato spesso quindi spiriti immondi che già è diverso da dire essere immondi spiriti immondi indica una collocazione precisa marco utilizza dei termini precisi affinché vibrino con le nostre coscienze interiori spirito perché comunque uno spirito che proviene dalla luce ma che è diventato immondo più o meno consapevolmente esattamente come accade oggi più o meno consapevolmente poi lo spirito diventa immondo quando lo spirito diventa immondo vuol dire che come vi ho appena spiegato non appartiene più al mondo dell'interiorità ma va fuori dall'interiorità va fuori di sé che è un altro termine che utilizziamo spesso andare fuori di sé vuol dire andare fuori da ciò che si è davvero dalla propria essenza dall'anima e ecco qui una spiegazione davvero completa di spirito immondo e dovremmo ringraziare anche il linguaggio di san marco che in due parole riesce a spiegare tantissimo io vi dico spesso che il vangelo per fortuna lo leggiamo quotidianamente perché guardate che la lettura del vangelo è semplice ma lo stesso tempo complessa cioè in realtà non è per tutti tant'è che io sono qui con questo canale e questi video proprio per far sì che tutti coloro i quali vogliono e anzi ne approfitto per dire che se avete conoscenti persone che sapete che hanno questo slancio verso la spiritualità condividetegli questi video perché credo e penso che il linguaggio con cui io parlo dei vangeli sia davvero accessibile a tutti ovviamente bisogna essere pronti interiormente ok cioè non è per tutti non diamo le perle ai porci ma sono convinta che ci sono molte persone che vorrebbero una spiegazione così profonda del vangelo ma che magari ancora non mi conoscono quindi può essere anche vostro compito e opera qualora lo vorrete di diffondere questi video perché è importante cioè non ci dimentichiamo mai la dimensione di ciò che ciascuno di noi può fare a volte anche condividere un semplice video può cambiare radicalmente o l'approccio di un individuo o addirittura può mettere quel seme che poi sboccerà quindi fatta questa parentesi vedete quanto è importante il linguaggio e noi lo sappiamo da italiani che la lingua più bella del mondo lo sappiamo bene e quindi quanto marco per quanto sintetico perché il vangelo più breve che noi abbiamo a disposizione per quanto sintetico è eloquente è diretto è immediato spirito immondo e con due parole ha davvero racchiuso pagine pagine di di materia spirituale quindi spiriti immondi cioè i dodici apostoli erano chiamati a avere il dominio sugli spiriti immondi guardate quanto sono importanti le parole guardate quanto è importante il messaggio di marco che veramente è breve sintetico ma efficace cioè marco dice chiamasse i dodici chiamasse i dodici apostoli ovviamente cominciò a mandarli a due a due e dava loro potestà sopra gli spiriti immondi il maestro gesù cristo con gli apostoli stava crescendo gli apostoli ma a livello spirituale era il maestro non solo poi sarebbe diventato il maestro di tutti noi ma era anzitutto il maestro degli apostoli e li stava affiancando e crescendo spiritualmente capite e quindi è il maestro gesù cristo dava agli apostoli a mano a mano delle iniziazioni cioè quando erano pronti a due a due ci fa intendere proprio che non è stato immediato tutto insieme ma è stato graduale quando erano pronti diceva gli apostoli bene ora avete anche il potere interiore di governare gli spiriti immondi perché anche questo non è per tutti governare gli spiriti immondi non è per tutti non lo può fare chiunque anche perché è molto pericoloso ma non lo può fare chiunque anche perché ci serve un approccio interiore di un certo tipo chi meglio del maestro gesù cristo poteva dire all'apostolo tu ora sei pronto a governare gli spiriti immondi poi ci dice un'altra cosa il maestro gesù cristo dice marco ordinò loro badate bene ordinò questo proprio a a sfidare tra virgolette tutti i colori quali continuano a pensare che il maestro gesù cristo vivesse nel buonismo ordinò cioè la parola di marco è chiara poteva essere indicò consigliò invece marco utilizza il termine ordinò quindi marco ordinò loro di non prendere nulla per viaggio eccetto il solo bastone non la bisaccia non il pane non il denaro ma di calzarsi di sandali e di non portare due tuniche soffermiamoci subito qua per non mettere troppa carne al fuoco come si suol dire questo è sia pratico che metaforico cioè questa è una metafora che però per la legge dello specchio gli apostoli vivevano anche nella loro quotidianità vi faccio un esempio quotidiano no sapete che io vi spiego il vangelo in chiave profonda esoterica proprio per poterla riportare nel vostro quotidiano quindi mi piace ovvero è possibile riportarvi un esempio del quotidiano nel quotidiano se nella quotidianità voi vi portate dietro molti pesi a partire dalla borsa a partire da un marzupio da uno zaino da quello che volete voi anche quando fate dei viaggi quando vi spostate per un giorno per poche ore per più giorni ecco il peso che voi vi portate il peso fisico materiale che voi vi portate la manifestazione del peso che voi vi portate sulle spalle a livello emotivo a livello mentale a livello spirituale perché ricordatevi sempre che vale in tutto la legge dello specchio lo so che ve l'ho ripetuto molto ma siccome molti ancora sono confusi su questo è il mio dovere ripeterlo cioè la legge dello specchio non è una legge messa lì non è una legge spirituale esoterica messa lì solo per certe persone valida solo per alcune persone o valida solo in certi contesti la legge dello specchio è valida per tutti sempre poi c'è chi ne è consapevole chi no ma vale per tutti sempre ogni giorno dalla cosa più piccola la cosa più grande quindi se io mi porto tanti pesi fisici vuol dire che io ho inconsciamente tanti pesi interiori magari carnici spesso anzi spesso i veri pesi sono quelli legati al karma quasi sempre a meno che in questa vita non si è fatto qualcosa di davvero molto forte ma se no è karma su cui noi dobbiamo lavorare d'altronde ci siamo incarnati in questa esistenza che lo ricordo per lavorare su di noi non per comprare case fare i figli andare in vacanza quello semmai un effetto collaterale pure questa è una cosa antipatica probabilmente per molti di voi ma io ho il dovere di ripetervelo ho questo ruolo a volte molto scomodo di stimolare le persone a guardarsi dentro dato che mi occupo di lavoro su di sé di cristianesimo esoterico e vi assicuro che spesso è scomodo sarebbe molto più facile fare come tanti content creator perché io anche non lo sapevo ma sono diventata una content creator me ne so me ne sto rendendo conto più che altro e fare come molti altri content creator che vi fanno solo non pensare cioè non facendovi guardare dentro vi fanno vi proiettano continuamente verso l'esterno e probabilmente avrei molti meno molte meno persone tra virgolette che esprimono delle considerazioni cioè sarei molto più amabile probabilmente ecco ma il mio compito invece è proprio quello di portarvi nell'interiorità quindi chi mi segue chi mi vuole seguire sa già che sta facendo e compiendo un lavoro su di sé anche solo guardando questi video e fare un lavoro su di sé molti di voi che mi conoscono da anni questa frase l'hanno sentita dire mille volte ma molti di voi invece sono nuovi fare un lavoro su di sé non è fare una vacanza su di sé un lavoro già di suo comporta un dispendio di energia anche nella fisica più basic un lavoro è quando si ha un dispendio di energia un impiego di energia quindi un lavoro su di sé è impegnativo è impegnativo ma la gioia che ne deriva e i risultati che si ottengono se uno poi li prova se ne rende conto se uno li sperimenta se ne rende conto sono ineguagliabili quindi in questo passo del Vangelo il maestro Gesù Cristo ordinò di non prendere nulla per il viaggio cioè di alleggerirsi di tutti quegli eventuali pesi emotivi e mentali che potevano agli apostoli impedire di proseguire nel loro servizio e la loro missione badate bene che proseguire nel servizio e nella missione implica inevitabilmente dover lavorare sul proprio karma chi vuole stare a servizio dei maestri e della gerarchia di Shamballa è costretto costretto tra virgolette è stato proprio la scelta però per usare un termine forte a lavorare sul proprio karma cioè non avete scampo qualcuno ve lo dovrà dire non avete scampo ve l'ho detto che io ho un ruolo poco amabile probabilmente anzi diciamo che a me c'è chi mi mi adora perché magari li ho aiutati a vedere quegli aspetti di sé che nessuno aveva aiutato a vederli e chi invece magari è un po più mi contesta un po' di più per quello che dico probabilmente perché tocco proprio dei punti dentro di loro su cui guarda caso dovrebbero lavorare quindi qua il maestro Gesù Cristo ordinò di non prendere nulla per il viaggio eccetto il solo bastone che è una figura metaforica poi vi ripeto anche pratica quindi liberatevi dei pesi mentali e emotivi affinché voi possiate essere più liberi possibili dai vostri legami karmici e dalle vostre pesantezze astrali affinché possiate aiutare il prossimo e questa è tutta la metafora fisica cioè non vi riempite di troppi pesi esteriori perché poi corrisponderebbero a quelli interiori e diceva loro in qualunque casa entriate trattenete vinessa per casa si intende l'anima nel vangelo ma anche qui è metaforica quanto pratica quando si dice spesso la casa è la mia anima la casa è il mio nido è perché la casa rappresenta spesso la missione che io devo svolgere cioè luoghi in cui io mi trovo sono sempre lo specchio riflesso e quindi il riflesso di ciò che io profondamente devo portare a termine questo vale per il lavoro addirittura per l'auto per una bici per una casa soprattutto però perché la casa è davvero a livello spirituale la rappresentazione del nido e qual è il nido profondo di ciascuno di noi il vero nido profondo di ciascuno di noi è l'anima e quindi dice Gesù Cristo ai discevoli in qualunque casa entriate trattenete vinessa fino a tanto che non partiate di là quindi in qualunque anima con qualunque anima entriate a contatto trattenete vinessa fin tanto che non partiate di là quindi fin tanto che fin tanto che poi non vi sia quel sano distacco post missione post evoluzione dell'anima e dovunque non vorranno ricevervi né ascoltarvi ritirandovi di là scuotete la volvere dei vostri piedi in testimonianza per essi nel caso in cui non trovate quel contatto animico che magari pensavate di trovare questo penso che capiti anche a voi spesso se vi sia già capitato ecco dice qua un passo importante che si riferisce alla legge del karma scuotete la polvere dei vostri piedi in testimonianza per essi cioè fate in modo che l'altro percepisca il suo karma prima di andarvene perché è roba sua come vi dico spesso il suo karma e non ve ne dovete fare peso voi cioè se l'altro non prende minimamente in considerazione un aiuto da parte vostra un aiuto spirituale da altre da parte vostra e spesso e volentieri gli individui anzi direi le persone in questo caso cosa fanno dicono di voler aiuto capita spesso questo capita anche a me dicono di voler aiuto ma all'atto pratico non vogliono essere aiutate ma in realtà inconsciamente vogliono rimanere nel pantano in cui si trovano bene ci dice qua il maestro gesù cristo è quindi non lo dico io io mi attengo sempre ai testi sacri sempre così non ci non possono esserci deviazioni dice qua scuotete la polvere dei vostri piedi in testimonianza per essi cioè lasciatele al loro karma evidenziando che è il loro karma e che è valore da loro ma staccatevi da loro non date le perle ai porci cioè voi aiutate solo chi merita chi non merita semplicemente non merita neanche la vostra energia perché aiutare è una missione è un servizio ma richiede impegno ed energia e ne so qualcosa io quindi ci ricorda qui il maestro scuotete la terra sotto i piedi evidenziate il suo karma e allontanatevi ed essi andarono a predicare che facessero penitenza e cacciavano molti demoni ungevano con l'olio molti malati li risanavano anche questa cosa della guarigione che spesso viene vista come una cosa impossibile non so perché probabilmente perché con tutta questa politica di correct che va ad oggi molto di moda e su cui si sta lavorando sulle menti umane da decenni le persone ad oggi arrivano a dirmi ma non è possibile aiutare una persona a guarire ecco quando si inizia ad avere queste forme pensiero vuol dire che coloro i quali hanno da decenni deciso di manipolare le menti ci sono riuscite benissimo perché il problema di questo è non solo manipolare le menti ma verrà anche manipolato lo spirito così profondamente da dimenticare il contatto con dio di ogni forma di manipolazione il vero scopo è quello di impedire un contatto sano e diretto con dio tutto quello che voi vedete prima è solo un mezzo per arrivare al fine il fine vero e proprio a impedire che l'essere umano attraverso l'antacarana abbia un contatto diretto quotidiano immediato vero sentito e profondo con dio e quindi in realtà così come agli apostoli oltre a dominare gli spiriti mondi gli era stata data la capacità che si acquisisce anche questa quei vari livelli di coscienza di guarire l'altro poi ci sono diversi modi per farlo ma lo scopo è sempre quello guarire l'altro guarire l'altro vuol dire di fatto farlo entrare con quella parte di sé che fino a quel momento per lui era stato un ostacolo un limite ecco dovete entrare nell'ottica che ciò è possibile perché tutto ciò che è manifesto anche la stessa scienza è sempre espressione di dio ma oltre alla dimensione scientifica c'è una dimensione energetico spirituale che altrettanto importante da tant'è che voi sapete che il motto che ho fatto mio che vi ripeto sempre a conclusione di ogni video è non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima perché se non c'è la parte spirituale all'uomo manca un intero pezzo della sua struttura energetica questo non so se è chiaro quanto è chiaro a me piace dirlo soprattutto qua che sto su un canale social quindi ho la possibilità magari di prendere più persone possibili sempre di quelle che sono pronte le persone che sono pronte devono ascoltare questo secondo il mio sentire profondo cioè noi siamo fatti da corpi energetici e da decenni ci stanno portando ad utilizzare soli i corpi energetici più bassi se sono qui anche con questi video ma anche con i miei corsi da qualche anno è per proprio alzare la vibrazione cambiarla e far sapere alle persone che esistono tutta una serie di piani superiori e di corpi sottiti superiori di cui non solo non dobbiamo fare a meno ma senza i quali vengono meno anche i piani inferiori senza i quali non è possibile nessuna guarigione nessuna guarigione è possibile se io non ho contatto con dio e questo è fondamentale e mi auguro che anche questo canale così come tutte le attività che io svolgo stia riuscendo nel suo intento ma dove c'è il cuore l'intento riesce sempre presto o tardi dove c'è il cuore l'intento riesce bene io vi ringrazio se volete commentare e magari dirmi come vivete voi questo questa dimensione della guarigione scrivetemelo qui nei commenti qua sotto che io li leggo sempre se volete sostenere l'opera c'è la possibilità di fare una donazione libera in un link di post pay che trovate qua sotto perché comunque anche questo richiede energia tempo investimenti altrimenti insomma anche la vostra presenza e anche i vostri commenti anche il vostro scambio con me è per me sinonimo di forza nell'andare avanti nella missione vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi lascio col motto che ho fatto mio non bisogna cercare di curare il corpo senza guarire l'anima ciao e tanto e bene